Continuiamo alla grande, due note solo sul gruppo che stiamo per ascoltare, si chiamano Breaking Vegetables, sono tra le novità di questo calado 2008, i loro sauni ricco di sfumature che vanno dal blues al soul al rock fino alla psichedelia. Hanno da poco inciso un primo album e dopo l'uscita di questo album hanno cominciato una sorta di promozione che li ha portati a suonare in tanti festival in giro per le diverse province qua attorno. All'incantiere già un altro LP, sono veramente interessanti, sono molto contento di presentarli, Breaking Vegetables! Ciao a tutti! Maestri, dottori, siete pronti? Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie. 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 Grazie.